Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. A giugno abbiamo dedicato un e-book alle piccole e medie aziende che si apprestano a muovere i primi passi. Ora il portale si rivolge anche a quelle imprese che sono già attive sui mercati esteri e intendono consolidare ed ampliare la propria presenza. Perché un nuovo portale? Perché finalmente, per la prima volta, le imprese potranno far riferimento ad un'unica piattaforma per ottenere le informazioni sugli strumenti e sui servizi a supporto dell'internazionalizzazione, messi a disposizione sia a livello centrale sia a livello territoriale dalle Camere di Commercio e dalle Regioni. La struttura del portale si articola in una navigazione guidata attraverso le principali tappe e i bisogni legati al percorso di internazionalizzazione di un'azienda. Si parte con l'offerta dei servizi formativi che preparano all'export per proseguire con gli strumenti di analisi per mettere a fuoco i mercati in cui esportare, i canali da utilizzare, i mezzi per promuoversi al meglio, fino ad arrivare alla selezione degli strumenti finanziari più idonei ad affiancare l'azienda in ogni fase del percorso di approdo all'estero. La realizzazione del portale rappresenta un primo passo importante verso una razionalizzazione degli strumenti al servizio del sistema paese. Entro la fine dell'anno saranno messi online nuovi strumenti con cui arricchire il portale a partire dall'attivazione di un desk di assistenza digitale che farà uso delle più moderne soluzioni di intelligenza artificiale.